Nelle Marche torna a salire leggermente il rapporto positivi testati che oggi appare all'8,2%. I nuovi contagi sono invece 154, 40 in provincia di Macerata, 40 anche in provincia di Pesaro-Urbino, 21 nella provincia di Ancona, stesso numero per Fermo e Ascoli-Piceno. 11 invece arrivano da fuori regione. Dati emersi sulla base dei 3.572 tamponi testati nelle ultime 24 ore. 1.879 nel percorso delle nuove diagnosi e 1.693 in quello dei guariti. Se nel sud delle Marche l'andamento dei dati è miglioramento, preoccupa però il focolaio scoppiato in una comunità cinese residente nella vallata del Tronto, tra Castorano, Spinetoli, Castel di Lama e Ascoli. Una trentina di persone ha risultate positive la scorsa settimana dopo un cluster lavorativo scoperto in un'azienda tessile cinese di Ancarano. È emerso infatti che la variante del Covid trovata su un campione inviato dall'area Vasta 5 al laboratorio di virologia del Torrette per il sequenziamento è nigeriana. Lo afferma il primario di patologia clinica del Mazzoni il dottor Antonio Fortunato. Dal canto suo invece il SISP sta cercando di ricostruire il tracciamento dei contatti sulla base dei 28 positivi accertati. Le prime diagnosi al SARS-CoV-2 di questo gruppo di cittadini ci sono state il 19 maggio scorso, lo stesso giorno in cui sono stati inviati i campioni ad Ancona per verificare la presenza di qualche variante. Ed ora è arrivata la risposta, ma Fortunato spiega che il vaccino comunque sembrerebbe efficace, nel senso che anche in caso di variante limita molto i sintomi della malattia. Grazie a tutti.